Quarti di finale Summer Cup, Real Pigna contro Dragable, risultato ancora sullo 0-0, Campra adesso prova un colpo impossibile, pallone tra le mani di Minieri, cerca subito Liberatore marcato bene da Romanelli, difensore storico dei Dragable, adesso Mercurio, De Rosa, De Rosa cerca Liberatore, un tiro formidabile, il dribbling rientra su destra, di punta Liberatore Menchini Junior, adesso sbaglia lo stop a seguire, si porta in avanti così di alpino, un fallo laterale, in spena avanti De Rosa pure una finta per Stefanelli e Menichini a chiudere un fallo laterale, De Rosa ancora Stefanelli, in mezzo a due De Rosa ma Menichini ancora una volta la mette, poi sbaglia però il dribbling, Menichini rimette ancora in avanti, Minieri, Mercurio, sbaglia il passaggio di battuta alla palla su Campra, Stefanelli, operatore torna indietro, finito appoggia con il tensore, sbaglia lo stop, buono il passaggio per De Rosa, Magliere scende 1-2, mette in palla tra le Campra, liberatore De Rosa, Romanelli, buono l'anticipo, buono il passaggio per Menichini, che non si sa se cercasse un tiro oppure un passaggio smarcare Campra, ma tu sa che la palla è finita sul fondo, senza nessun pericolo assoluto per Minieri, Menichini chiede la distanza, Romanelli sbaglia lo stop, Mercurio, Mercurio può avanzare adesso indisturbato, Stefanelli, di lui ci ha parlato, parlanti, scusò, Fanelli anticipa Menichini tutti mettendo il pallo laterale, sono in questa fase ad attaccare, si limitano alle ripartenze da Capo, liberatore, buono l'anticipo adesso di Canfora all'1-2, Canfora ancora davanti ai Minieri, troppo lunga, non segue Menichini, Mercurio, Romanelli mette in avanti i restoparlanti, però, liberatore, il tiro di liberatore di poco al lato, entrano Lanzara e Masha, effettivamente per Campra, poi Masha può rientrare, Menichini, provare il dribbling, non gli riesce, poi Lanzara mette in pallo laterale, De Rosa, Masha, buono ritorno su De Rosa di Masha, liberatore, buono sopra, di Romanelli, ancora liberatore, De Rosa, liberatore il tiro, palo esterno, Ligini, buono anticipo, De Rosa, Anarga bene su Masha, il passaggio per liberatore, l'anticipo lo difendore, domani gli stava per favorire, l'entrata in trete della palla, liberatore adesso, 1 per Masha, il ritorno ancora marcato, poi parlanti lascia scivolare il pallo laterale a favore dei Dragapur, parlanti cercherà adesso il pallo, Menichini Junior, di testa, annullato il gol, bellissimo però l'azione, liberatore, si allarga il tiro ribattuto e un calcio d'angolo, Poi ancora Menichini, all'anticipare Mariano, poi la palla per Manichini, ancora Menichini Valerio questa volta, tutto, e spieghiamo qui il nostro gol